La possibilità di avere una proposizione è troppo chiaro, visto che è un dato che ormai è evidente, è un dato che è un dato che è evidente, e quindi chiaramente è lì che bisogna servire e cercare di avere una maggiore continuità, e cercare anche di avere quelli adatti per Nel pre-partita ha detto